Raga ci siamo, in questo momento sto spettando la dancing servia lady perché insieme a lei andremo a prendere mio padre E finalmente dopo giorni di attesa andremo a sfidarsi sotto Ma sei infatti, raga ha portato un magente questa pazza Contro tenche tenche, mi si è risvegliato il mio spirito salvagio Oh mio dio raga, questo è completamente fuori di testa Insieme a me ho portato una persona che non ti immaginerai Vabbè Oh mio dio E' un personaggio raga, cosa cazzo l'ho stasera Dancing, calma, calmati un secondo Hai capito che per affrontare un personaggio tranquillo come Tengue Tengue Hai portato un macete e anche questo pazzo di Mario Bros Tengue Tengue sarà anche un bambino ma è molto pericoloso Dobbiamo ucciderlo, ogni arma servirà per ucciderlo Questi sono completamente pazzi, sapete che vi dico raga Andiamo a prendere mio padre ed incontriamoci con Tengue Tengue Io l'ho studiato affatto questo Tengue Tengue Ed è pazzo, pazzo Dancing ma è semplicemente un bambino di 12 anni Cosa può fare un bambino di 12 anni? Magari ci vorrà solamente mettere paura, che ne sai? Dobbiamo armarci, io l'ho detto Ok calmi raga, innanzitutto dobbiamo cercare mio padre Che dovrebbe essere qua vicino Anche perché non so quanti di voi si ricordano Ma mio padre in questo momento abita al mare C'è solo un problema? Sempre problemi Dancing, io non ce la faccio più Ogni volta che sono con te ci sono sempre problemi Qual è? Cosa succederà? Quanto Papa Cadia si incontrerà a noi? Super Mario Brosso per averlo tradito? Oh porca miseria! Infatti Mario Tu ci hai tradito Sei stato un traditore Hai cambiato squadra e sei passato dalla parte E lo schibi di toilet E adesso davanti a tutti Devi spiegarci perché hai preso questa scelta So che non mi crederete mai Ma Quel maledetto dello schibi di toilet Aveva rapito mio fratello Ho dovuto tradirvi Nessuno ti crede Super Mario Sappiamo benissimo che il bottino era Dei funghi magici che diventavano gigante E tu volevi diventare il più grande di tutti i vostri Ma nessuno ti crederà adesso E adesso ci aiuterai Per pagare la tua pena E' bene Io mi sto spazientendo Dov'è tuo padre? Ancora? E' mio padre Scegliamo 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 Vai dancing Valla a chiamare Valla a chiamare Oh mio dio raga Siamo praticamente sul mare E siamo su una specie di montagna Piena di sabbia Ok Oh mio dio Raga L'incontro Tra mio padre E la dancing Servi a lei dopo un anno Quando hai fatto qua raga? Allora papà Calmati un secondo Siamo venuti perché c'è una minaccia imminente qua Che sta girando nella nostra città Sai di chi sto parlando papà? No di chi Di chi È un pazzo È un bambino Potrà sembrare tranquillo e dolce Ma in realtà è una bestia Danting spiega a mio padre di chi sto parlando Siamo parlando di lui Quel pazzo Dengue Dengue Lo conosco Lo conosco Dengue Dengue Lo conosco Esattamente è qua in Italia E sicuramente se non è sbarcata la Lampedusa Hai capito? È sbarcata la Lampedusa ragazzi La Lampedusa è sbarcata Ma che cazzo mi state dicendo? Sì Quindi tu papà Hai già visto Dengue Dengue? In Africa sì L'hai visto in Africa? L'ho visto in Africa Oh mio dio raga Perfetto papà Katia Quindi sei con noi? Dobbiamo illuminare subito E prima che fanno il disastro Ragazzi Sbarcata Sto pazzo Tengue Tengue C'è una piccola cosa che ti devo dire Perché insieme a noi C'è una persona che sicuramente non ti piacerà E chi è? Papà Sto parlando Di Mario Bros Mamma mia Ma con i traditori Papà lo so che è un traditore Lo so ti capisco benissimo L'ultima volta Ha cambiato squadra Ed ha combattuto contro di noi Insieme allo schievi di Toret Ma questa volta Si è pentito E ci ha chiesto di entrare Nella nostra stessa squadra Ma se voglio entrare in questa squadra Vado a prendere almeno un pugno Qua sarà Vuoi tirargli un pugno? Vado a prendere un pugno Papà sei sicuro? Mio padre è diventato molto più aggressivo di prima Ma va bene papà Se questa è la condizione Che venga fatta Eccolo Oh mio Dio Mario Mario papà Aspetta 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 per i vogli tirargli il pugno Oh mio Dio Vaga Mio padre vuole picchiare Mario Bros Vai papà Tiralo Tiralo Papà Papà Mi hai tirato troppo forte mi sa Mario Mario Ci sei Mario Ci sei Mario Papà Penso in Mario Ci siete? Siiii Ok raga Qua di fronte ai nostri occhi C'è praticamente il drone Che sto facendo volare Perché in questo momento signori Dobbiamo cercare assolutissimamente Questo maledetto di Tengue Tengue Papà Tu ci hai praticamente spiegato Che Tengue Tengue Proviene da una città Del Kilimanjaro dell'Africa Una montagna Una montagna dell'Africa E l'avevi già incontrato diversi anni fa Giusto? Quando avevo dieci anni Quando avevo dieci anni Quindi spiegatemi un secondo Da quanti anni è in vita Questo Tengue Tengue Lo sapevo io Probabilmente Ha il mio stesso potere L'immortalità Come state vedendo? Proprio qua di fronte ai nostri occhi C'è una casa abbandonata Vorrei un secondo per lustrarla Secondo da Dancing Dato che tu sei un po' più esperta Di luoghi abbandonati Un pazzo come Tengue Tengue Potrebbe nascondersi All'interno di questa casa abbandonata Certo perché in Africa Ci sono zacco di baraccopoli così Ok raga Sto facendo avvicinare il drone Siamo praticamente all'entrata Di questa casa abbandonata E' terrificante E' terrificante Sapete che qualcuno tra di noi Dovrà andarla ad esplorare dal vivo Vero? Secondo me si nasconde dentro una foresta Si nasconde dentro una foresta Cagliats? Si Ho visto una montagnetta L'avvicino Aspetta quale montagnetta Non riesco a vedere Questa? Si Ok ok Raga mi avvicino dentro questa montagna Si Vai E' impossibile che un bambino di 12 anni Riesca a salire su una montagna del genere Dancing Tu prova Ok vado mi avvicino Mi avvicino Mario tu che sei pure esperto Secondo me si può nascondere qua dentro Potrebbe Si nasconde dappertutto Ok raga mi sto avvicinando Mi sto avvicinando sempre di più E' una vera e propria montagna raga Piena di alberi sopra Ok ma qua raga Non sembrerebbe esserci nessuno Hai visto qualcosa? Ho visto un movimento Un movimento? Sinistra Aspettate raga Faccio un giro 360 di questa montagna Papà Tu vedi qualcosa? E' dentro Nelle alberi questo E' dentro gli alberi Perché stai gridando? Perché l'ho visto Papà Papà Vieni qua Vieni qua Forse qua dentro Ragazzi io ancora non l'ho visto nessuno Io ancora non riesco a vedere nessuno Oddio Oddio Papà lo vedi? Dimmi che lo vedi? Oddio E' questo? E' questo Calmi Calmi Ok Faccio allontanare subito il drone Perché potrebbe causarmi dei danni Veramente Kayaks Dimmi Vai dietro Ce n'è un altro No non può essere un altro Ragazzi Che sento c'è un altro Tengue Tengue Fermi un secondo Allora questo è un'ottruvi Sono di più di 150 Una tribù Una tribù di Tengue Tengue No no non può essere possibile Aiuto Papà mi sa che ti stai sbagliando 150 Tengue Tengue 150 Tengue Tengue E se non è pericoloso Con loro ballo ti possono pure possedere Aiuto Ragazzi Avete sentito che t'ha fatto mio padre Con il loro ballo ti possono possedere In che senso Forse ho capito Con quel palletto strano Ti entrano in testa E tramite le altre elettromagnetiche Diventerai anche tu Un Tengue Tengue Ok calmi Raga guardate Ce n'è un altro Ecco lì Guardatelo raga Sto scappando Sto scappando E Tengue Tengue E Tengue Tengue Segui Lo inseguo Lo inseguo Sto entrando Sto entrando La casa è abbandonata Ragazzi È sparito Ragazzi Sto più abbandonata Voglio entrare in questo posto Abbandonato E appena è entrato in questa mega baraccopoli E tutto distrutto Questo tetto potrebbe crollare Da un momento all'altro Calma il sangue freddo Calma il sangue freddo Mi manchiettoso per Mario L'abbiamo affrontato di peggio Di corte e di crude L'abbiamo affrontato Mostri Fantasmi Bambini Demoni Ho capito Renzi Ho capito Cosa facciamo Ci facciano Quella tribù di bambini Va bene raga È arrivato il momento Una volta per tutte Prendiamo le armi ragazzi E distruggiamo Questi Tengue Tengue Forza soldati Entriamo Un, due Un, due Un, due Forte Danting Che succede? Che succede? Oh mio Dio Danting Danting Cos'è sta cosa? Purtroppo è come pensavo Che succede? Danting Questi selvaggi Sono dei canni Oh mio Dio Se lo guardiate è questo Mangiano essere umani Per essere giovani Mangiano essere umani Per rimanere giovani Ti rendi conto Che stiamo per affrontare Due pazzi Penso i mostri più forti Che abbiamo mai affrontato Procediamo Procediamo Forza 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 Vai Mario Vai tu per primo Vatti come secondo Ragazzi Io non volevo Assolutissimamente Registrare questo video Sterco di cavallo Ragazzi C'è una puzza Di me Non so se vi rendete conto Ma questo Questa è cacca Danting Questo è cacca Oh mio Dio Papa procediamo Procediamo Vieni qua Papa vieni qua Fai attenzione A dove cautesti Perché in tutta quanta Questa specie di baraccopoli È piena di cacca Mi stai dicendo Che anche in Africa Vivevano in mezzo alla cacca? Vivevano così Questo è proprio Il loro luogo Il loro posto Devi sapere una cosa La cacca di cavallo Ha un campo elettromagnetico specifico Contiene il tetano Un particolare batterio Che dà forza Ai Tenghe Tenghe Papà Mentre continuiamo ad esplorare Questo posto Super puzzolente Devi raccontarmi qualcosa Di più di queste Tenghe Tenghe Spiegami L'unica cosa Che ti posso dire Quando l'ho visto solo Una volta Quando avevo Deci anni Quando avevi dieci anni Hai avvistato un Tenghe Tenghe Grazie a Dio Che sono riuscito a scapare Hai capito? Quindi mi stai dicendo Che un Tenghe Tenghe Ti stava per aggredire? Quando avevo dieci anni Ti ho detto Questo luogo qua Mi fa ricordare No? Non è sempre Dove c'è la scritta E qua è il luogo loro A loro piace Vivere in mezzo Alla sporcizia In mezzo alla cacca Ragazzi Vi rendete conto Che io tutte queste cose Non le sapevo? E tutto questo è un resto umano? Questi sono resti Di esseri umani? Sì sì No ma mi sai Che ti stai sbagliando Stai andando un po' oltre Non possono essere Dei resti di esseri umani Vieni vieni che ti fatti vedere le ossi Le ossa di esseri umani? No ragazzi Ragazzi Densig Densig Vieni qua Vieni qua Mio padre Mi ha appena riferito Che qua dentro Dentro questa mega struttura Si nascondono delle ossa Di esseri umani Densig Ormai Non mi spaventa più niente Ecco ho visto un osso Dove? Dove? Colonna vertebrale Questa qua Mangano gli esseri umani Buttano i resti dove vivono loro Tutti i resti poterò Basta perdere tempo Ti sta facendo notte Cadiax E' l'ora Di eliminarli Tengo attenti Non piacciono di umore Agiscono nel silenzio Agiscono nel silenzio? Ok fermi Fermi tutti Mi è venuta un'idea Probabilmente Se facciamo silenzio Per un paio di minuti Potrebbero comparire Da un momento all'altro Quindi adesso Stiamo tutti quanti zitti Non parliamo più E aspettiamo Qualche movimento O qualche suono Provenente da questa casa Zitti tutti Zitti 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 Sì Ah che io ancora Non sento nulla però Oh no Ho ragione Sono qua dentro Ho ragione Sono qua dentro Sono qua dentro Oh mio dio Dancing Dancing Aspetta 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 Sto cantando Questa musica Mi dà la testa Calmi 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 Ragazzi Non possiamo Fare azioni Spropositate Che Mario Entriamo da dietro Tu e Papa Kajax Davanti Andiamo Papà Cioè mi stai praticamente dicendo Che adesso dobbiamo distrarre i Tenge Tenge Con il silenzio Con il silenzio Raga Dobbiamo entrare in silenzio Dentro questa casa abbandonata Papà Papà Vai 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 Vieni vieni Anzi vai avanti tu Vai avanti tu papà Io mi sto cagando addosso ragazzi Oh mio Dio Qua dentro C'è Tenge Tenge Ok Sto zitto Sto zitto Sto zitto Vai forza 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 Ragazzi Oh mio Dio Papà Ti voglio dire solamente una cosa Tieni il martello carico Tieni il martello pronto Hai capito Vai forza Forza Vai avanti Vai avanti Vai avanti Vai vai papà Vai papà Ok Ragazzi Regà Sono qua dentro Non c'è nessuno papà Non lo so Dovevi cercare Dovevi vedere Tenge Tenge Siete qua Tenge 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 Siete qua dentro Papà sento i rumori Fermo Dammi il martello a me Fermo 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 Ascoltami Sta indietro Sta indietro Sta indietro Sta indietro Tenge Tenge Papà 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 Oh mio Dio Ragà Ragà Benzi Benzi Sono usciti Sono Sono là dentro Mario calmo Mario calmo Capiamo Via 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 Ragà Cosa caspite L'hanno lanciato Papà Non possiamo affrontare patti del genere Sono scappati da sotto ragazzi Sono in fronte di da Dancing Adesso è arrivato il momento Dobbiamo procedere tutti quanti in gruppo Vai Mario Vai Mario Signori Stiamo Per affrontare i Tenge Tenge Papà Forza 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 Vieni veloce Vientro Per primo Tra di noi Non puoi rischiare ogni volta di morire Oh mio Dio ragazzi Mio padre è sempre coraggioso Mario Tu pronto con il macete Tu dancing Vai avanti Perché se mio padre dovesse venire attaccato Tu devi subito intervenire Dovrebbero essere tecnicamente La sotto A sinistra A sinistra Continua ad andare avanti Continua ad andare avanti Forza papà Forza Vai 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 Ancora di più Ancora di più Forza 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 Oh 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 Raga Che succede Che succede Raga Che succede Raga Che succede Dating Dating Tenge Tenge Raga Raga Oddio Dio I Tenge Tenge I Tenge Tenge Ah 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 Lo stavo aspettando Ed è ufficialmente arrivato il momento Tenge Tenge Ci ha scritto su Whatsapp E indovinate cosa ci ha inviato ragazzi La parola Tenge 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 Più volte Perché questo pazzo ancora Non abbiamo capito che lingua parla Sapete quindi noi cosa faremo per parlare con lui Dato che proviene da una città africana Da un paese africano Invieremo i messaggi proprio nella lingua di google traduttore Ovvero africano Andiamo a scrivere da italiano tradotto ad africano Ciao Tenge Come hai fatto ad avere il mio numero E guardate come ce lo traduce ragazzi I Tenge Ho e het J My nom Parole a casissimo Copiamo questo messaggio Andiamo su Whatsapp Lo incolliamo E lo inviamo direttamente a questo Che dovrebbe essere il numero ufficiale Boom Inviato Tra l'altro ragazzi Non ho idea se è effettivamente il numero ufficiale Oppure no Intanto dobbiamo sperare e aspettare che ci rispondiamo E ragazzi guardate che fotoprofilo ha Bruttissima Ci sono praticamente i suoi due occhi che si escono dalla faccia Dai Tenge Tenge ti prego rispondici ti prego Voglio capire chi si nasconde dietro di lui e quali sono le sue intenzioni Ha risposto raga e oh mio dio Ok calmi 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 Perché è la prima volta che riceviamo un messaggio In qualche lingua presumo sia proprio quella africana Da parte di Tenge Tenge Ragazzi ok vado subito a copiare il messaggio Vado su Google traduttore Inserisco africano Ed incollo il messaggio ragazzi 3 2 1 Incolla Questa cosa non dovrebbe preoccuparti Sono diverso dagli altri mostri che hai affrontato Mi piace giocare con i morti E portarli in Africa nella mia città Per mangiarli crudi Oh mio dio Ragazzi Questo non è più un fottutissimo scherzo Perché è la prima volta che sentiamo Una parola Comunque una frase compiuta da parte di Tenge Tenge Sicuramente ci sarà qualche errore da parte di Google traduttore Perché ha scritto Mi piace giocare con i morti e portarli in Africa Presumo mi piace giocare con i corpi morti e portarli in Africa Nella mia città Ma calmiamoci signori Calmiamoci Perché adesso dobbiamo rispondere a queste minacce da parte di Tenge Tenge Sei l'ennesima persona che mi minaccia scrivendo queste cose spaventose Io però ormai ho affrontato tante persone e non ho più paura di nulla Anche perché ricordati che ho sempre la forza e l'aiuto di mio padre Signori probabilmente è ritornato il periodo Il momento di far scontrare mio padre Di riportare mio padre qua all'interno del canale Infatti in questo momento Se volete che papà Cadiax affronti questo pazzo di Tenge Tenge E spoiler Sono entrambi africani Quindi magari potrebbero anche riuscire a dialogare e parlare insieme Scrivetemi Vai Cadiax e farò sfidare mio padre contro Tenge Tenge Ok ragazzi Messaggio inviato Adesso aspettiamo altri minuti e vediamo cosa ci risponde Tenge Tenge Oh porca miseria Ragazzi Ragazzi guardate qua Questo Ragazzi Questo è il mio pottutissimo palazzo dove abita Non sto scherzando ragazzi Non sto scherzando Oh mio dio ok ok Sì 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 Riesco anche a vedere il mio pancone che non lo dirò Non lo dirò ragazzi Non lo dirò ma questo Questo è il mio portone ragazzi Questo è il mio pottutissimo portone Tenge Tenge È arrivato a conoscenza di dove abito No ok Ragazzi ci ha pure inviato un altro messaggio Ci ha pure inviato un altro messaggio Ok copiamolo E traduciamolo senza perdere tempo da africano Ad Italia Aum Aum Aim Tenge Tenge chiamato anche chiamato anche Evoco lo spirito di Tenge Tenge e lo porto direttamente a Cadiax Vengo ad aspettarmi stasera Alle 3.33 Ragazzi Ragazzi cosa caspita significa quello che ho appena letto Vengo ad aspettarmi stasera alle 3.33 Forse ho capito ragazzi Forse ho capito signori Tenge Tenge verrà a casa mia le tre e mezza di notte Oh mio dio ok Ok Raga Sapete che vi dico Mi barrico E ci vediamo stasera Raga la situazione mi sta sfuggendo di mano Oh mio dio Tenge Tenge potrebbe essere proprio dentro il mio palazzo O magari fuori dal mio palazzo Il problema è che ha scoperto dove abito Ancora però ragazzi Tenge Tenge non mi ha suonato Né è citofonato Né ha bussato alla porta Quindi significa che probabilmente Proprio il piano del mio appartamento non lo conosce Ha scoperto il palazzo ma non il piano Ragazzi Ragazzi L'avete sentito L'avete sentito raga Oh mio dio Raga 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 Oh mio dio Oh mio dio guardate Guarda No ragazzi non si vede bene Non si vede bene Vi posso assicurare che io riesco a vederlo benissimo Questo qua è Tenge Tenge raga È Tenge Tenge C'è Tenge Tenge al citofono Oh mio dio No 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 Non va per niente bene raga Non va per niente bene Voglio nascondermi in qualche camera Calmi 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 raga Tenge Tenge ha beccato il numero del mio appartamento Sa anche il piano Sa anche il citofono Fermi un secondo ragazzi Fatemi provare a rispondere al citofono Voglio vedere se effettivamente è lui Sì Raga Raga Tenge 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 sei tu Tenge 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 È lui raga Oh mio dio No 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 Non va per niente bene raga Questa situazione non va per niente bene È proprio lui Tenge Tenge Infatti stava cantando la canzoncina Oh mio dio calmi 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 C'è Tenge 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 che vuole entrare in casa mia Ed è sera ragazzi Non posso chiamare veramente nessuno Solamente i carabinieri Mi sa proprio che è ritornato Il momento che non mi aspettavo mai ritornasse ragazzi Sto prendendo il coltello Perché questo pazzo potrebbe Ancora Ancora raga Ancora Ancora raga Oh mio dio Raga Guardatelo Guardatelo ragazzi Oh mio dio questo è pazzo Questo è pazzo raga Questo è completamente pazzo Ha gli occhi tutti quanti sparati Tenge Tenge È probabilmente all'accetta della scorsa volta Ok calmi calmi Fatemi un secondo respirare Ho un coltello Ma non ho effettivamente altre armi ancora più interessanti Signori Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Perché ho un qualcosa di molto interessante qua dentro Raga Se non sbaglio Sì Proprio qua Dovrei avere una pistola a piombini Ok raga Adesso la situazione diventa veramente interessante Raga sto andando a caricare la pistola che ho proprio qua di fronte ai miei occhi È l'unica opzione che mi rimane Perché sono sicurissimo che un semplice coltello con questo nuovo mostro Tenge Tenge Non basterà Inserisco tutti quanti i piombini qua dentro Raga e sapete dopo di che cosa farò Scenderò sotto Gli punterò la pistola E gli dirò una volta per tutte di lasciarmi stare Perché sono stanco di essere continuamente inseguito da questi mostri pazzi psicopatici Vado raga guardate sto inserendo tutti quanti i pallini Ok metto anche l'ultimo Perfetto Fermi 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 Inserisco questo Inserisco l'ultimo E l'esco raga La pistola adesso È carica Signori la pistola è carica Fatemi fare un piccolissimo test per vedere se effettivamente funziona Spara e potrebbe fare male a un pazzo psicopatico come Tenge Tenge Provo un colto raga Provo Oh mio dio Oh mio dio raga ok è potentissimo È potentissimo raga Ovviamente ci tengo a ricordarvi che non dovete mai fare assolutamente quello che sto facendo io Questa pistola ce l'ho solamente in casi estremi di sicurezza come questo qua Quello di Tenge Tenge Adesso raga è arrivato il momento di uscire fuori di casa e andare a vedere Tenge Tenge Dove caspita sta Ok chiudo la porta raga La chiudo Porta chiusa Apriamo subito la luce e direi immediatamente di entrare all'interno dell'ascensore raga Eccomi qua Sto andando al piano terra perché è proprio là che Tenge Tenge si nasconde Io vi ripeto raga sono armato Ho questa pistola da ieri La punterò Voi mi raccomando non fate assolutamente quello che sto facendo io Perché sono delle azioni pericolosissime Ma in questo caso ovvero nel caso di Tenge Tenge È necessario fare tutto ciò Adesso signori siamo al piano terra Praticamente dietro questo muro ci dovrebbe essere il portone con tutti quanti i citofoni È proprio là che Tenge Tenge ha bussato alla mia porta raga Io mi sto cagando sotto perché vi ripeto sono sempre solo Ogni volta che mi succedono queste cose paranormali Sono brevemente solo È arrivato il momento di vedere se si nasconde qua dietro 3 2 1 Tenge Tenge Raga Fermi tutti Fermi tutti raga No 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 Non può essere possibile Non può essere possibile Ogni volta mi scappa raga Non c'è più nessuno Non c'è più nessuno qua alla porta Vi posso assicurare che è i citofoni Guardate Sono qua i citofoni raga E adesso qua fuori non c'è più nessuno Oh mio dio Fermi 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 raga Devo fare una cosa che non mi sarei mai aspettato di fare Ho aperto il portone Adesso raga devo uscire per vedere se effettivamente si sta nascondendo dietro il palazzo Perché potrebbe essere un pazzo psicopatico che si mette dentro il palazzo Ecco i citofoni sono praticamente qua Quindi questo pazzo psicopatico era proprio qua che ha citofonato al mio piano Al terzo piano raga Ok con calma adesso devo fare una piccolissima esplorazione per vedere se si nasconde dietro questo muro O potrebbe magari Raga non vorrei che questo pazzo psicopatico è in grado di rubarmi la macchina Perché la mia macchina è parcheggiata là sotto Calmi tutti raga Tenga tenga sei qua Non c'è nessuno neanche qua raga Non c'è nessuno neanche qua Dove caspita andata tenga tenga raga Sono fuori Sono quasi le 3 di notte e mi sto veramente veramente cagando addosso Tenga tenga sei qua Tenga tenga ti ripeto sei qua Fermi tutti raga Fermi tutti Non è che per caso è salito adesso dentro il mio appartamento dal balcone Oddio Raga Raga guardatelo E tenga tenga Oh mio dio Tenga 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 Ragazzi Oh mio dio c'è tenga tenga dentro il mio palazzo Ok Ok gravi tutti Gravi tutti raga è scappato È scappato raga È scappato sopra No 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 mi sta prendendo un infarto raga Mi sta veramente prendendo un caspita di infarto C'è tenga tengo dentro questo palazzo Ho un'idea raga Chiamo un attimo all'ascensore Devo caricare la pistola raga Devo sempre avere la pistola carica Fermi tutti fermi tutti fermi tutti Ok L'ho caricata Tenga 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 mi senti? Tenga tenga scendi qua sotto Sono armato Tenga tenga Non so dove caspita È andato Potrebbe essere dal primo piano Al piano terra O addirittura al sesto piano Ok raga non so veramente cosa devo fare Forse è andato all'ultimo piano raga Va dal sesto raga Sto andando al sesto piano Mio dio ragazzi C'è tenga tenga dentro il mio palazzo Vi rendete conto che questo pazzo psicopatico È effettivamente pericolosissimo Se non ancora più pericoloso Dalla dancing Serve a lady Perché non riesco mai a capire Quali sono le sue intenzioni Cioè non capisco se effettivamente È super super cattivo O magari è semplicemente bravo E vorrebbe fare amicizia con me Anche se l'ultima volta Ha provato ad aggredirmi Ok raga siamo quasi dal sesto piano Siamo arrivati Sesto piano raga Questo dovrebbe essere Il sesto piano C'è la finestra aperta C'è la finestra aperta raga Ok 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 Calmi 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 Sto salendo Ancora Di più Raga Oh mio dio Non ho idea Di dove caspita siamo Sesto piano raga guardate Sento dei rumori Sento dei rumori da qua sopra Sento dei rumori da qua sopra raga Calmi 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 Sto salendo ragazzi Sto salendo Sto continuando a salire Tenghe Tenghe Sei qua Tenghe Tenghe Sei qua Tenghe Tenghe Non c'è nessuno Non c'è nessuno raga Qua però c'è una porta Dove c'è scritto Macchinario Di ascensore Pericolo Accesso vietato Alle persone Estrani al servizio Raga Qua dentro C'è una porta Che se riuscisse ad aprire Potrebbe effettivamente Essere molto interessante Tenghe Tenghe Mi senti Tenghe Tenghe Hanno chiamato Il fottutissimo Ascensore Significa che c'è qualcuno Dentro il palazzo Raga Sono le tre di notte Vi rendete conto Che nessuno Nessuno sveglia Le tre di notte Se non io E quel pazzo di Tenghe Tenghe Ora sto scendendo a piedi Non ho idea di dove sia Siamo tipo al quinto piano Qua ragazzi Questo dovrebbe essere Il quinto piano Sì sì Continuiamo a scendere Io ho sempre la pistola Carica Pronta E la posso sparare in testa Da un momento Si è spenta la luce Si è spenta la luce raga Si è spenta la luce raga No 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 Non va per niente bene Non va per niente bene Tenghe 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 Sei qua Ti prego esci Tenghe Tenghe Mi sto cagando addosso raga Mi sto cagando addosso Tenghe Tenghe Oddio raga Non ho idea di che piano siamo Cioè non siamo al quarto Al quinto O al secondo Tenghe Tenghe Io sto continuando a scendere raga Io sto continuando Oddio Oddio Tenghe 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 Oddio raga Dove conseguire La devo prendere La devo prendere raga La devo prendere La devo prendere Tenghe Tenghe Vieni qua Tenghe 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 Raga Dove caspita sta andando raga Dove caspita sta andando Sapete che vi dico raga Io me ne torno a casa Vado a dormire Mi blindo completamente Finito quante le volte Questo che state vedendo è il numero di Tenge Tenge che ho acquistato direttamente dal Dark Web E senza perdere tempo lo sto andando a chiamare Intanto vediamo se risponde raga perché ho pagato anche questo numero la bellezza di 250 dollari Sta squillando ma ancora non risponde nessuno raga Io vi ricordo che praticamente ogni settimana compro dei numeri all'interno del Dark Web Che dovrebbero essere dei numeri che gli hacker riescono a trovare dei vari personaggi Dopodiché io li vado a chiamare per farvi vedere a voi se effettivamente è possibile incontrare Tenge 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 sei tu? Mi senti? Raga 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 lo sento è lui Tenge Tenge ciao mi presento sono Kadiax Non so se riesci a capire quello che sto dicendo ma vorrei tantissimo incontrarti dal vivo Puoi gentilmente non lo so mandarmi una posizione e dirmi dove abiti in questo modo ti vengo a trovare Raga continua a dire Tenge 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 va bene Mandami gentilmente la posizione su Whatsapp ok Ha buttato giù Breve ma intensa breve conversazione ma intensa Aspettiamo la posizione andiamo a vedere se è possibile e se esiste Tenge Tenge dal vivo Raga siamo quasi arrivati alla posizione che ci ha mandato questo pazzo psicopatico di Tenge Tenge E guardate dove siamo raga io non riesco a capire dove caspita siamo Chiudo un secondo la macchina raga perché quello che ho di fronte ai miei occhi è raccapricciante Sembrerebbe essere quasi una specie di foresta Rendetevi conto raga oh mio dio questa è tutta quanta foresta alle mie spalle C'è Tenge Tenge che avete sicuramente conosciuto su TikTok Abita proprio in questi luoghi del genere foreste baraccopoli e cose varie E infatti guardate cosa abbiamo alle nostre spalle Proprio un sentiero per entrare all'interno di una foresta Ora prima di affrontare un pazzo psicopatico del genere Perché vi posso assicurare che non è così tanto divertente come vedete dai video Vado a bere un po' di acqua raga perché ultimamente fa veramente troppo caldo E ho bisogno di idratarmi Prima di non lo so combattere, morire, picchiarmi con un pazzo bambino del genere Vado Ok raga siamo pronti ad andare ad affrontare Tenge Tenge horror E secondo voi farò l'errore della scorsa volta? Ovviamente no perché mi sono portato sia una mazzetta super pesante Cioè raga rendetevi conto che un colpo del genere in testa vi distrugge completamente Sia quest'altro che un martello un po' più leggero ma due praticamente spigoli Due punte così che se entrano in testa la persona che l'ha presa è completamente morta Dato che devo avere un'arma che mi permette di muovermi rapidamente Prenderò questo martello che è quello un po' più leggero Ora signori è arrivato il momento di esplorare questo sentiero di questa foresta Armati pronti ad affrontare Tenge Tenge Rendetevi conto che questa qua l'entrata di tutta quanta la foresta è già si presenta malissimo Perché potrebbe spuntarmi da un momento all'altro sia qualche pazzo sia qualche demone sia proprio Tenge Tenge Durante la telefonata che ci ho fatto non è stato molto amichevole A parte il fatto che non ho capito che lingua parli Perché oltre a cantare la canzone Tenge 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 Qua mi serviva effettivamente l'aiuto della Dancing Serbian Lady perché guardate No vabbè A parte il fatto che io non riesco ad orientarmi in nessuna foresta e nessun bosco Non ci sono mai stato Anzi l'ultima volta che mi sono ritrovato in un bosco È stato esattamente un anno e mezzo fa Quando incontrai per la prima volta in tutto il mondo, in tutta Italia Mercoledì Adams Ora signori già qua arriva il primo problema Perché Tenge Tenge sei qua? Tenge Tenge sono Cadiax Sono arrivato alla posizione che mi hai mandato su Whatsapp Non riesco a capire dove sei Mi fai un cenno? Raga non risponde Ragazzi non risponde Tenge Tenge non risponde Io ho paura che questa sia tutta quanta una trappola Ho paura che da un momento all'altro sbuchi con un martello Con un macete Con un coltello mi possa uccidere Qua abbiamo due opzioni raga Un sentiero che porta in una strada ovviamente sconosciuta È un altro sentiero che porta in un'altra strada sconosciuta Indovinate quale prenderò? Non lo so neanche io ragazzi Quindi continuiamo Semplicemente a camminare come degli stupidi Ignoranti imbecilli In un bosco da soli Semplicemente con un martello del genere E ti prego Tenge Tenge Se sei qua eci fuori per favore Tenge Tenge mi senti? Fammi un cenno? Canta la canzone? Sono arrivato Ho seguito i tuoi ordini? Ho seguito la posizione che mi hai mandato su Whatsapp? Ma non riesco più a capire dove devo andare Sei a destra, sei a sinistra, sei avanti, dietro Ci sei per favore Ti fai sentire? Raga Qua non parla nessuno raga Qua non parla nessuno raga Oh Ho sentito qualcosa raga Ho sentito qualcosa ragazzi Fermi tutti Fermi tutti Ho sentito una piccolissimo cello di Tenge Tenge Ok raga Forse c'è Tenge Tenge Questa foresta Oh mio Dio Se noi incontriamo per la prima volta in tutta Italia Io esco completamente fuori di testa A parte il fatto che non dobbiamo farci prendere dall'emozione Perché non sappiamo se è amichevole Oppure un mostro come tutti quanti gli altri che ci vuole fare fuori Tenge Tenge Ti ricordo Che io ho un martello Sono armato e non ho paura di affrontarti Spero 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 Che non sei come tutti quanti gli altri Quindi come lo Skibi di Toilet Come Mario Bros Come la Dancing Serbian Lady E come tutti gli altri demoni Raga Raga Oh mio Dio Oh mio Dio Ragazzi Guardate Guardate raga Oddio C'è scritto Tenge E qua c'è una freccia Signori proprio di fronte a noi C'è una scritta fatta in pezzi di legno Dove c'è scritto Tenge E qua raga a fianco C'è una specie di È una freccia Oh mio Dio Signori Qua alle nostre spalle potremmo trovare effettivamente Tenge Tenge Per la prima volta in tutto il mondo Ok Tenge Tenge So che sei qua So che sei qua Ti ripeto Io sono armato Non ho più paura di affrontare nessuno Ti chiedo gentilmente di non aggredirmi Di non fare il pazzo psicopatico come hanno fatto tutti quanti gli altri mostri Ma di stare tranquillo e cercare di fare amicizia con me Ora raga L'unica opzione che ci rimane Dato che qua ci sono due sentieri Ed effettivamente uno porta là sotto Ed è una strada che non vorrei andarci Perché appunto la freccia ci indica di andare verso questo sentiero raga Ok Io continuo Ad andare verso questo sentiero Ora Tenge Tenge Non sbuccare all'improvviso Perché se fai una roba del genere ti giuro Ti giuro che prendo il martello E te lo spacco in testa eh Te lo spacco in testa perché non ho paura di nulla Signori C'è un piccolissimo problema perché questo sentiero è praticamente Raga è un piccolo È un piccolo cieco È un piccolo cieco raga Guardate Non c'è più nessun altro sentiero C'è solamente erba altissima Ok signori un attimo un attimo perché qua la situazione diventa alquanto raccapricciante Tenge Tenge Sei qua Tenge Tenge Calmi cos'è sta roba? Sono dei pezzi Ok cos'è sta cosa raga? Non ho idea Non ho idea di dove siamo in questo esatto secondo C'è erba altissima e potrebbe veramente spuntarmi un serpente da un momento all'altro Tenge Tenge Guarda se la situazione è questa qua io preferisco andarmela a casa Gentilmente mi fai un segno? Oh Lo sentite raga lo sentite? Lo sentite raga vieni da là sotto Vieni da là sotto raga Oh mio dio Da là sotto Ok ok calmi 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 Ragazzi ok sento dei rumori strani eh Sento dei rumori strani inizio a spaventarmi Tenge Tenge Ti prego non farmi così tanta paura Questo non so neanche se è più un sentiero perché c'è l'erba altissima E io ho paura di incontrare un serpente No C'è un sentiero sia qua sia là sotto Tenge Tenge dove sei? Oh Raga Raga forse viene là sotto Forse viene No 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 raga da qua sotto E da qua sotto ti viene Ok raga calmi 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 devo togliere un attimo Devo togliere un secondo questa pianta qua Ok Tenge Tenge sto arrivando Sono qua Tenge Tenge mi senti? Oh mio dio raga no vabbè Ma guardate che sentiero è questo qua ragazzi Ma io non posso andare in sti posti completamente solo con semplicemente un martello Tenge Tenge guarda Io non oltrepasso più questa roba Se vuoi uscire gentilmente vieni tu perché mi arrendo Non voglio più proseguire questo video Tenge Tenge mi hai sentito? Ragazzi non parla Non parla Questo furbo di Tenge Tenge non vuole aprire bocca Raga Ancora Ancora sento Ragazzi sento Tenge Tenge Raga sento ancora Tenge 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 ti prego esci fuori Non ce la faccio più Oh Raga Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Vedo qualcosa dietro quest'albero Sì raga C'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio raga Oh mio dio raga C'è qualcuno Dietro quel fottudissimo albero Oh mio dio Ok calmati un secondo Kadex Respira Respira Signori io ho visto la sagoma Dietro quell'albero Ho paura di morire da un momento all'altro Perché non l'ho mai visto Tenge Tenge dal vivo Tenge Tenge sei tu Raga si muove Guardate Guardate raga si muove Tenge Tenge sei tu Ragazzi Ragazzi Mi sto avvicinando Mi sto avvicinando Guardate 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 Si muove Si muove raga 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 Guardate Oh mio dio Oh mio dio Tenge Tenge esci fuori Esci fuori Tenge Tenge Lui Raga Raga mi sto avvicinando Raga mi sto avvicinando Tenge Tenge sei tu Oddio raga Oddio Oddio Vedi tutti Vedi tutti Vedi tutti Tegati Oddio Oddio E Tenge Tenge E Tenge Tenge raga E quel E quel pazzo di Tenge Tenge Ok calmi Guardatelo Guardatelo raga No vabbè Non ti posso credere Raga 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 Ci scappiamo Bisogna andarsene via Raga Siamo Aiuto Aiuto Raga Raga Non so in questo momento Cosa caspita devo fare Devo affrontarlo E spalcargli la testa Ma devo semplicemente Avvicinarmi Per fare amicizia con lui Capire chi è Capire cosa si nasconde Detro questo pazzo Psicopatico Mi sto tenendo un secondo male Devo un attimo respirare Devo un secondo respirare Oh mio dio Oh mio dio E' la prima volta Che mi capita Di vedere un personaggio Che mi fa veramente Veramente paura In mezzo ad un bosco E sono completamente Solo semplicemente Con un martello Tenghe 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 sono Kadex Esci fuori Esci fuori Tenghe Oh mio dio Tenghe Tenghe esci fuori Esci fuori Guarda Stai calmo eh Sono armato pure io Tenghe esci fuori Sono i pa- Ah Ah E' il pazzo Raga guardate E' il pazzo Oh mio dio Raga Ti sta avvicinando Ti sta avvicinando Tenghe Tenghe Allontanati Allontanati Ragazzi No no raga E' veramente raccapinciate E' veramente raccapinciate Tenghe allontanati Allontanati Tenghe Aiuto Aiuto raga Tenghe Tenghe Mi stai seguendo Ah Ah Raga Raga Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Tenghe 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 No Tenghe Fermo Fermo Tenghe Fermo Tenghe Ragazzi Questo è un pazzo Questo è un pazzo Raga Questo è il più pazzo di tutti Tenghe 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 Stai calmo Guarda Non ti ho mai fatto nulla Voglio semplicemente fare amicizia con te Non voglio Nessuna lite Non voglio essere aggredito Ma tu capisci quello che sto dicendo io Tenghe 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 calmo Calmo Riesci a capire l'italiano Tenghe Raga raga Forse questo non capisce nessuna lingua raga Forse Tenghe Tenghe Non parla nessuna lingua Parla solamente la lingua del Tenghe Tenghe Dobbiamo provare a parlare con lui Utilizzando proprio la lingua del Tenghe Tenghe raga Sembrerà stranissimo perché non so cosa dico Vabbè ci provo Tenghe Tenghe Mi senti Tenghe Ok Tenghe 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 Ok ok raga forse Non so cosa sto dicendo Ma forse sta capendo Tenghe 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 Ok 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 raga Io non so cosa sto dicendo ma Penso che qualcosa la sta capendo Raga faccio la mia ultima mossa Tenghe 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 Ci sta andando raga, ci sta andando Ci sta andando, sì, sì, sì Ok, ok raga, ok raga Fatemelo andare da qua, fatemelo andare da qua ragazzi Oh mio Dio Avete capito quindi? Il Tengue Tengue Non parla nessuna lingua se non il Tengue Tengese È proprio una lingua Che hanno inventato Probabilmente in quella tribù, in quel villaggio Da dove è nato Tengue Tengue Quindi non capisce italiano, non capisce inglese Non capisce spagnolo Non capisce nulla raga, solamente il Tengue Tengue E se volete un prossimo episodio con Tengue Tengue Voglio almeno 5000 like